Guarda che lavoro, no? Dio guarda, vuoi prenderla in bocca e non riesce perché non ci sta, ti arrendi? Dio guarda, vuoi prenderla in bocca e non riesce? Tutto di più. Guarda il recinto com'è finito. Tu vi è dispiaciuto perché quando torna a casa non ci saranno più? Sì, almeno uno. Ma quando è? Sono potridi. Mettiamo questo perché vado a fare. Mettiamo questa, vado a non. Da stupendo la mia cosa che non mi metti. ma si può mettere si può mettere si può mettere buttoni guardali ma guarda come si danno da fare e poi abbiamo due e poi abbiamo due e poi ci siamo in formata che famiglia meravigliosa ma come facciamo noi li dovremo portare vieni i patatini guarda la bella femmina come si sa che... con quei dentini guarda la bella femmina una è lì l'altra è lì l'altra è lì quella è parita quella lì l'altra è lì l'altra è lì l'altra è lì l'altra è lì la bella femmina l'altra è l'altra è lì l'altra è lì l'altra è l'altra è lì E' grosso, eh? Ma... 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 Eh, ma avevano una voglia di uscire. Facevano dei piangi. Prendi, vai a prenderla. Lì, resta lì. Venghino, venghino, venghino. Fate presto. Dai, Pitta, prendine uno o due. Dobbiamo far presto? Sì, perché poi devono stare insieme. Ecco qua, via! Via, via, via! Aspetta che ne manca uno. E' un po' più forte. Bravo, belloccia! Chiudi. Ok. 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 No! 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 No, ma adesso sotto... No! No, non l'ho raggiunciado! Esatto! Eh, eh! Le prende una... Allora anche le g left! Aspetta lo taglio! Vedendo che il venite se venga fuori! Ti paredi dato! Ah, no! Non ci si prova, guarda, Vilco! Lo che mi guarda, Kamai! Chi orguchi! Sì! Anche la bella, si vede che è distratta. Sono bellissimi, bellissimi. E' bravissima. Avevo l'idea? No, è carina con l'idea, loro amici sono. Bella! Ciao! 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 Grazie a tutti.